buongiorno ciao a tutti benvenuti bentornati a casa ambra allora sei chiaro come sempre io prima di video della diretta faccio salti nel negozio comunque venerdì ormai è un appuntamento fisso e purtroppo di volte come negozio esco con qualcosa mi sa che forse leggermente viziando anche le figlie perché sono entrato e qua palla bla 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 fa le cuffiettine male se le puoi prendere con piccole rate sulla tua tariffa quindi vabbè mi sono preso le arco mi sono preso le barz e anche la way quindi per non tradire nessuno ho fatto il completo quindi mi sono preso le barz per me la figlia grande maggiorenne giustamente che ha compiuto gli anni giustamente può prendere che le ai poti perché c'è la piccolina che c'è comunque il monopattino che l'avete conosciuta nel discorso che comunque posso dirti io ce ne ho le uso tantissimo anche prendere a correre sono interneabili sono molto comode basta aprire la scatolina si mettono dentro si agganciano automatico si ascolta la musica si parla al telefono eccetera e basta sono molto molto comodissimi ci stanno in tasca si caricano molto velocemente quindi e quindi dove il negozio sono uscito con le auricolari così intanto vediamo se c'è salutiamo i ragazzi collegati marco simone insomma invece di fare l'happy hour tu fai vodafone natale tutto l'anno se lo meritano ma secondo me di novità tu ne hai viste altre ma guarda appunto stavo perché poi a me piace anche ascoltare quello l'atmosfera del negozio guardarmi attorno e sentivo un cliente che parlava con elisa di partita iva andrà in agenzia c'è un negozio della partita iva quant'altro invece sentivo che elisa parlava con clienti della partita iva però ho chiesto a anche chi ha la partita iva può rivolgersi ai negozi non solo i privati seguiamo anche quella parte della partita iva le aziende la dalla ditta individuale l'azienda un po più grandi cella insomma quindi anzi addirittura abbiamo anche delle persone che si occupano proprio di questa cosa qua che vanno anche dal cliente quindi ora dimmi se io la partita iva cosa faccio se io sono privato vado negozio mi prendo le mie bazze ma se una partita iva vado comunque in negozio certo assolutamente si puoi anche chiamarci per fissare un appuntamento oppure se tu non hai tempo veniamo anche noi abbiamo il nostro consulente consulente business che si chiama manuela appunto che va anche su su appuntamento e comunque la cosa bella anche che tu hai un tuo numero privato da vent'anni ti apri la partita iva e vuoi mantenere quel numero lì manteniamo quel numero lì portando quella partita iva e tu mi dici che dovrei andare in camion di commercio per la partita iva e beh quindi poi mi seguirebbero tutti i negozi quindi faccio privato e quasi quali potremmo non vediamo se potrebbero avere un'attività cosa mi consiglio un negozio di telefonia no però potresti vendere i monopattini esatto esatto potrebbero aprire i monopattini è il futuro quello delle città ecco quindi tu diciamo come partita iva di quanti numeri cellulare avresti bisogno avresti bisogno di una rete fissa di una di una fibra di cosa avresti bisogno per la tua partita iva diciamo della tua azienda quindi c'è io allora io ho la partita iva quindi vengo lì e dico guardate che io devo aprire una nuova attività e mi serve la fibra per collegare mi serve un tablet per andare dai clienti mi serve anche magari se visto che comunque se è una ditta bella interessante magari serve anche il dominio perché io presumo che se io metto come mail chioccia gmail.com ma la testina cosa dici se posso venire da voi voi mi fate tutto hai presente cosa dice ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho mi manca da noi non manca niente perché abbiamo anche quello abbiamo anche la parte delle soluzioni digitali oltre ad avere tutta la parte del telefonino del tablet delle connessioni connessioni adsl fibra sim dati saponette wifi perché ci sono ovviamente anche tipo non so agente di commercio che girano in macchina che hanno anche bisogno di essere collegati con i dispositivi quindi abbiamo anche quelle soluzioni lì abbiamo anche una parte che si chiama le soluzioni digitali dove comunque non è che ti vedo il computer però tu invece di avere una tua classicissima email gmail che dopo oltre a non essere sicura per il servizio di dati cioè non è che non sia proprio però è una parte usata diciamo dalla parte forse non molto professionale esatto hai capito oltre a ricevere un sacco di pubblicità eccetera eccetera abbiamo una soluzione che si chiama microsoft 365 dove tu avresti di pure parte del microsoft assolutamente sì fede il tuo dominio fede è un mondo meoscuro cioè il tuo dopo la chiocciolina invece di avere il classico dominio diciamo che te lo fornisce qualche altra azienda grande eccetera avresti un dominio tutto tuo quindi io quasi quasi qua adesso chiamo in camera di commercio e poi la partita IVA assolutamente assolutamente a parte che tu nel cliente da noi partita IVA viene seguito passo per passo in tutto ma proprio tutto non è che noi anche perché penso che uno che alla partita IVA non abbia tanto tempo da seguire tutto l'iter burocratico per fare quella per la DSL quant'altro quindi comunque io vengo in negozio se ho la partita IVA ho dei numeri privati che posso passare quindi in business quindi poi mi fate tutto voi certo certo assolutamente abbiamo una struttura noi qui in ambra soprattutto anzi ce l'abbiamo o forse solo noi in ambra che segue la parte business diciamo oltre a Emanuele che è il nostro consulente che comunque ci segue passo per passo il negozio sul puntamento dal cliente eccetera abbiamo anche una ragazza che si chiama Martina che segue il cliente proprio da in post attivazione da quindi se c'è qualche problema cosa succede senza venire qua chiamano il telefono e qualcuno mi risponde assolutamente c'è questa ragazza qualcuno risponde cioè cose mai sentite mai distrette la nostra Martina la nostra Santa Martina che le facciamo anche gli auguri perché io le si è sposata quindi auguri Marti per una vita lunga e felice poi ti aspettiamo qua perché hai un sacco di pratiche da mandare avanti e c'è la ragazza che segue diciamo tutta la parte della clientela dall'attivazione al post attivazione la fattura qualsiasi chiarimento insomma diamo un servizio a 360 gradi Fede allora Elisabetta chiede ma se non avessi tempo di venire al negozio veniamo noi di Elisabetta senza nessun problema si chiama e sta un appuntamento e noi andiamo tranquillamente siamo equipaggiati con i nostri tablet e andiamo direttamente dal negozio senza nessun problema quindi se io vengo qua e pago che poi vogliamo definire in azienda l'esterto viene direttamente in azienda esatto esatto assolutamente questa parte qua ce l'abbiamo sia della nostra parte Elisabetta diciamo che anche della parte lombarda sui negozi di Mantua quindi seguiamo anche due regioni comunque allo stesso come stanno dicendo appunto che sono già stati seguiti da Davide al negozio di Mantua e che è stato molto bravo quindi bravo Davide quindi puoi aprirti la tua partita IVA cosa fai? ma quindi poi eh guarda passiamo a parlare ma qui allora io vengo qua mi faccio una fibra per l'ufficio mi faccio il micro 35 e poi ti ricevo 60 fatture che devo stare lì a controllare e poi la pavola con il giorno X e quell'altra pavola X quindi c'è un macello? ma c'è? assolutamente no perché viene tutto unificato Fede hai un'unica fattura e comunque in qualsiasi caso se tu hai bisogno di una volta alla ricezione della prima fattura puoi anche chiamarci e anzi ti chiamiamo noi prima per chiedere se è tutto a posto e dopodiché tu ci puoi chiedere qualsiasi chiarimento della lucidazione ma comunque hai tutto in un'unica fattura cioè tutto si somma avere una fattura con tutto quindi un pagamento unico con tutto il mondo di Vodafone assolutamente sì e puoi avere tutto un mondo un mondo che aspetta solo noi perché le aziende soprattutto Fede devi sapere con la parte del covid l'emergenza diciamo tantissime aziende lavorano in smart working quindi hanno proprio necessità di connessioni di tablet di telefoni in partita IVA quindi noi seguiamo il cliente anche da questo punto di vista senza alcun problema perfetto veramente super super dire sempre altra domanda Tiana che ti rivolgo ma tutti i negozi sono preparati per fare business in negozio quindi se io arrivo devo aspettare prendere conto con qualcuno o se parlo col primo addetto che si libera posso parlare direttamente con lui assolutamente no Fede perché tutto il nostro personale di tutta Ambra è assolutamente preparato sul mondo business quindi posso parlare con chiunque quindi tu se hai un consulente di fiducia puoi richiedere perché ovviamente dopo diventa un po' fidelizzato però se sei un nuovo cliente che entra dentro a chiedere qualsiasi informazione puoi chiedere con qualsiasi nostro consulente anche perché store specialist diciamo qualsiasi venditore che trovi nel negozio che sono che sono tutti preparati sulla partita IVA io allora arrivo faccio il mio apro la partita IVA arrivo faccio le mie cose per me la mia azienda si ingrandisce posso continuare ad aggiungere assolutamente sì assolutamente sì puoi aggiungere tutto quello che vuoi e quando vuoi quindi mi entro con i lavoratori nuovi voglio dare il target con l'occhiato che vengo qua con appuntamento aggiungo una sim esatto hai bisogno di non so prendi una segretaria che deve rispondere a un telefono hai bisogno di un telefono in ufficio eccetera eccetera basta che ci chiami e aggiungiamo non c'è nessun problema oltre al servizio comunque di della parte voce la parte internet servizi digitali eh se tu dovessi aver bisogno anche degli smartphone per la partita IVA abbiamo anche quelli quindi senza alcun problema di qualsiasi smartphone tu hai bisogno ce l'abbiamo ok poi mi chiede Elisa chiedete ma se avessi già nei contatti Vodafone con partita IVA li potete supportare per sconti modifiche? assolutamente sì certo assolutamente ma se mi chiedi un caffè anche quello anche quello abbiamo la nostra saletta business dove abbiamo anche la macchinetta del caffè quindi il ciclo caffè prima e via vede ad avere comunque anche una saletta business riservata dove comunque facciamo anche delle trattative riservate perché lo sappiamo che su determinate aziende comunque serve anche più tempo quindi magari giù c'è confusione ci si esatto esatto magari ci arriva l'appuntamento magari c'è magari fila in negozio si sale su nella nostra saletta business con il cliente quindi si fa anche una trattativa e appunto si offre anche il caffè perché abbiamo anche il caffè super è proprio buona di aprire la partita IVA comunque il caffè lo facciamo anche a te non è un problema quindi non solo alla partita IVA ecco quindi tranquilla puoi venire Elisa non c'è nessun problema facciamo il controllo e vediamo se si possono modificare i contratti risparmiare o qualunque altro ne ho perso un paio di domande qua stiamo scorrendo quindi scrive Emanuele ho sentito che con la fibra aziendale viene dato un servizio di sim per backup e poi Simone scrive a cosa serve la sim per backup quindi penso che siano bene o male la stessa domanda ok perfetto vai tu vado io allora beh la sim di backup serve lo dico io perché ha già imparato tutto siccome a livello business non posso mai rimanere senza linea perché succede qualche lavoro succede che c'è un disguido tecnico mi salta la linea io sto sto lì a guardare gli armi pollici e aspettare che la linea torni no con Vodafone la nostra Vodafone Station all'interno la chiavettina che mi dà la sicurezza che se dovesse saltare la linea fibra automaticamente la station capisce che non c'è più la linea fibra funzionante mi va con la chiavettina all'interno quindi io posso continuamente a navigare e anche volendo a telefonare anche se è saltata la fibra quindi non ho mai interruzione esatto esatto devo sempre lavorare bisogna produrre esatto Fede la sim serve proprio per questo per avere una sicurezza al 100% del cliente o comunque dell'azienda o che sia un negozio eccetera oltretutto anche volevo anche ricordare che le nostre station business sono già predisposte per il POS quindi POS e fax e fax appunto quindi è proprio la station è proprio completa poi abbiamo Marco che ci chiede naturalmente in azienda abbiamo un contratto di linea fissa che è molto dispendioso con l'altro operatore ma solo titubante nel cambiare nonostante le offerte migliori perché ha un sistema di video serviglianza che non deve risentirne avete una soluzione anche per questo? il P statico sereno perché grazie alla Vodafone Station business il P è statico quindi il tuo sistema di video serviglianza non subisce nulla stacchi il vecchio operatore dispendioso attacchi la nuova tecnologia Vodafone e le telecamere funzionano perché è il P statico sì sì quindi Marco stai sereno in più se non erro ci pensiamo noi a fare il passaggio giusto? assolutamente sì gestiamo noi tutto il passaggio dall'altro operatore a Vodafone quindi voi non dovete fare proprio assolutamente niente ci pensiamo noi firmettina e basta codice di migrazione una bolletta un documento abbiamo finito quindi da quel punto di vista state tranquilli ok ok poi comunque anche esatto se io posso controllare esatto esiste anche un'applicazione sul cellulare che si chiama My Vodafone Business per avere sempre sotto controllo i costi quindi posso sempre sapere quanto sto spendendo se dico che è il tuo posto e ogni venerdì lo stesso giorno della diretta sia nel privato che nel business c'è Happy Friday quindi io faccio il sorriso e quindi posso avere degli sconti degli omaggi dei premi tutti venerdì gratuitamente esattamente esattamente venerdì vi ricordate perché c'è la diretta e c'è il Friday quindi venerdì è giornata da aspettare è la nostra giornata happy Vodafone esatto quindi mi raccomando chi ha la partita IVA non esiti a venire nei negozi a contattarci perché veramente abbiamo una struttura e un servizio per seguire il cliente dall'inizio alla fine veramente e per seguirlo anche successivamente quindi non è che poi noi siamo dei negozi non è che fate un contratto poi puf ciao non ci siamo più noi siamo nei negozi che ci trovate sempre quindi potete chiamarci potete venire nei negozi cioè alla fine fine il servizio è sia nella stipula del contratto ma anche come post venta quindi veniamo finiti seguiti anche dopo se qualche problema qualche direttore come dicevo prima se la mia azienda si ingrandisce voglio aggiungere qualcos'altro posso sempre andare in negozi allora poi abbiamo un'altra domanda che ci chiede sempre Marco ho sempre sognato di avere un sito internet tutto mio dove pubblicizzare la mia attività e tenere contatto con i miei clienti saprete supportarmi anche in questo devo arrangiarmi in un altro modo no assolutamente no diamo comunque oltre alle soluzioni digitali abbiamo un sacco di servizi per club ma come dicevamo prima il dominio invece di prendere la mail con Gmail ti fai il dominio con quello che bisogna di te lo so pizzeria al volo punto com che ne so rosticeria gnam gnam punto it te lo crei se non c'è e quindi è tu quindi fai il tuo dominio ti fai le tue mail sicure potette e poi professionale il mondo business fede alla Vodafone è enorme quindi abbiamo riusciamo ad accontentare ogni singola esigenza di ogni cliente quindi non esitate a chiamarci perché avremo una soluzione che fa per voi in tutto e per tutto ovviamente avrebbe proprio voglia adesso mi alzo e vado a camo commercio anche perché fede cercheremo a breve comunque restrizioni covid bar a matrimoni permettendo di avere Emanuele Lamartina qui con noi in una delle nostre dirette tra circa due settimane però vi faremo sapere dove comunque potrete fare delle domande dirette anche al nostro consulente business che è Emanuele e Lamartina che segue diciamo tutta la parte diciamo burocratica delle pratiche e la parte della clientela quindi appena riusciamo ad organizzarci li avremo qua nella nostra diretta Sì per cui conoscete poi come sempre io sto guardando la telecamera vedo sempre un numero dietro ma sei ancora lì che stai facendo Beh certo ma è ovvio perché domani 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 Quindi domani ci sarà questo fatidico Esatto esatto c'è la prima partita che ricomincia il campionato però c'è la partita ovviamente della mia squadra che se vuoi vedere cosa mi ha regalato oggi una cliente Elisabetta si chiama Elisabetta questa cliente che è molto carina molto carina quindi vorrei anche ringraziarla mi ha regalato oddio mi insulterà tutta la mascherina dell'Ellas ovviamente Domani in casa con la mascherina per guardare la partita Un po' me la metto però la toglierò perché a forza ma poi magari si segna Esatto Mi sta girando il fibrillatore Ok quindi mi raccomando io domani c'è la possibilità di venire al negozio a stipulare poi si potrà fare ancora successivamente però se la facciamo domani mi viene sempre dato l'orologio in omaggio quindi mentre domani chi fa la fibrillatore e chi fa la fibrillatore con lo sport completo si può portare a casa il mi vende quattro esami Esatto Poi Nulla vieta perché comunque il campionato continua per quanto Eh oddio deve finire che si è interrotto quindi penso che comunque andremo direttamente anche dopo tutto continuo poi settembre si riparte Orario continuato per il campionato Calcio 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 forever Quale momento migliore che venire a fare la voda.tv con lo sport completo che ha anche un prezzo piccolissimo quindi vi aspettiamo Ok 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 Allora aspetta ma gli altri sport si ha ragione non esiste solo il calcio perché appunto promola 1 riparte Il moto mondiale dovrebbe ripartire Ci sono tutti gli sport chiamati minori che poi non è vero che siano così quindi pallavolo, equitazione, golf, nuoto, tennis Ci sono tutti con lo sport completo grazie al lavoro continuo Si calcio ma anche tutto il resto Tutto il mondo dello sport diciamo di qualsiasi genere Esatto quindi lo sport e poi anche uno può fare lo sport si può fare l'intrattenimento ci troviamo anche incluso ci può fare anche ci sono i film Cioè con la voda.tv veramente ha un palestesto immenso immenso veramente infatti come scrive Francesca Vedi questo può fare l'intrattenimento Per te che si può fare l'intrattenimento Puoi fare il pacchetto solo l'intrattenimento Puoi fare il pacchetto sport Lo abbiamo incluso per due mesi l'intrattenimento Quindi ti guardi lo sport E ti guardi anche l'intrattenimento Mi dicono da regia tre mesi scusate E' bello della diretta E' bello della diretta E' bello della diretta E' bello della diretta Il nostro mondo è completo a 360 gradi E non sapete neanche quante cose che ci sono qui alla Vodafone Per ogni esigenza per qualsiasi familiare dai tre anni anzi di meno fino ai 99 E' bello della diretta Abbiamo presentato di cose Abbiamo presentato i tre Abbiamo presentato i monopattone Le auricolari, le casse, gli accessori L'assure business La fibra, la nuova tecnologia che la zia Emanuela ha fatto E Xiaomi e Sancho Cioè veramente il mondo Vodafone è immenso E secondo me non abbiamo neanche iniziato E ce n'è da parlare tantissimo 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 Assolutamente sì Bene Marco si deve inviare anche il basket Quindi si deve essere in mano Ti puoi guardare il basket Per fare parte di calcio Per fare il basket Vai Perfetto Che dire Tiana Sono veramente contento Perché non sapevo che nei negozi Vodafone Si potesse parlare di partiteva Quindi veramente un alto tassello possibile C'è Benissimo Quindi se i clienti privati Che i clienti di business Possono fare tutto Certo Fede Tu vieni da noi Che noi abbiamo tutte le soluzioni possibili Siamo un po' come l'Ostradamus Quindi C'è un po' tutto Perfetto 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 Benissimo Alle 14 qui a casa Ambra Con tantissime novità Esatto Quindi un bacione A presto Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.